Sono state necessarie tre udienze al pubblico ministero Pierpaolo Bruni per completare la requisitoria nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema rende. Il magistrato della direzione distruttore antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio per Sandro Principe, l'ex sindaco della città del Campagnano, con alle spalle una lunga militanza politica socialista che lo ha portato a ricoprire cariche prestigiose come quella di sottosegretario, di assessore e consigliere regionale e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio e corruzione. Secondo gli inquirenti avrebbe goduto del costante sostegno della cosca Lanzino-Rua nelle campagne elettorali succedutesi tra il 1999 e il 2011. Chiesto il rinvio a giudizio anche per Umberto Bernardo, primo cittadino in carica tra il 2006 e il 2011, per Pietro Ruffolo e per Giuseppe Gagliardi, più volte assessori comunali, con ruoli politici anche alla provincia di Cosenza. L'ipotesi è che in cambio dei voti gli amministratori abbiano poi concesso agli esponenti delle cosche favori e assunzioni nelle cooperative sociali del Comune di Renda e Pierpaolo Bruni ha formulato anche le richieste di condanna per gli imputati che hanno scelto il vito abbreviato. Per Adolfo D'Ambrosio e Michele Di Puppo il PM ha chiesto sei anni di carcere, quattro anni invece per Francesco Patitucci e Umberto Di Puppo. Formalizzata anche la richiesta di condanna a 16 mesi di detenzione per l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli e per il suo collaboratore Paolo Lento. Tutti gli imputati professano la loro innocenza. Salvatore Bruno per la CNews 24.